Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io Papyrus e sono qui in compagnia di... Sense. Esatto, e ci siamo vestiti, abbiamo trovato questo nuovo gioco chiamato da Arsos 2, e ci siamo vestiti a te, ma infatti siamo degli scheletri ragazzi, e la parte bella è che quando morite diventate degli scheletri, sta giocando Sense, io non c'ho giocato poco perché io andavo sempre a fare una guardia, ma le rovine, se invece non fa mai niente. E da un bel pezzo che dò questo gioco, non gliel'ho mai detto a Papyrus perché doveva impegnarsi nella guardia reale, doveva impegnarsi per una guardia reale, come ben vedete gli osav tra un lato di tutti, lì c'è un coso molto importante, perché quest'arma fa così schifo, pazienza, è uno stocco, non è fatto per colpire per terra, è una brutta cosa questa. Ho sentito dire che c'è un boss ragno un po' avanti, che si tratta di mafia, molto probabilmente ci assomiglia molto, chiamo anche lei i suoi aragnetti, lasciamo vedere, io dico, è una zona molto pericolosa questa qui, già, molto pericolosa, sono stato preoccupato con la scuola di Tori, ragazzi, ma finalmente sono tornato, vuoi incidare dentro per i compiti, un brutto signore qua davanti, Sense, perché tu non vai a scuola con Tori, non dico spiegare ad andare a scuola, perché io l'ho già finita, Sense, chi non è più vecchio? Mi ha colpito a tradimento, oh mio Dio, Sense, chi è l'altro è più vecchio? Fa niente, fa niente, non fa danno, non fa danno, tranquilli, adesso sì che mi fa danno, mi fanno danno loro, guardate con tutta calma come beve la sua Estus, ma è più successo, è tempo andato, nessun problema, oh cavolo, ragazzi, mi serve un po' di vostro aiuto, scappa a sesso, no, questo gioco non l'odio, farò io ora, ecco perché, non te l'ho mai fatto scoprire, ok, dicono questo gioco è molto difficile, per me è un Dine, distrugge la mezzo, il tuo joystick, se ci potessi giocare, non lo sa di questo gioco, vero? io non ho mai parlato, molto bene, spero che non venga a cercare ora, giù per le scale, ok, oppure, non lo so, c'è un ragno qui sotto, ci sono ragni dappertutto, esatto, quello lì, ma Fett Gore si incazzerà un sacco, vedete questa cosa ragazzi, io mi sono già incazzato con questo gioco, quindi, pareggiamo solo i conti, oh 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 questa non è possibile ora faccio io noi combattiamo con delle ossa non vero peccato non ce ne sono forse un po più debole pensava di uccidermi creativo ora è le mie anime vabbè fa niente cerchiamone una anno ok ok la situazione si fa cattiva togono molto donna si quante volte è finita questo gioco 3 3 giorni perché non è parlato perché un brutto gioco al saprotto perché ci ha giocato così tanto 6 perché è difficile non è che voglia di fare niente ora mi dice che voglia di giocare giochi difficili esatto stai panneggiando 6 non mi veniva da ridere del mondo lì perché sta scappando o riesco a colpire finalmente che cosa mi ha dato bellissimo pezzo di titanite un osso di drago molto importante cosa è molto bene ragazzi ho preso una spada non spada invisibile come vedete non vedo le zone a spada esatto e questo è bello perché deve un'arma invisibile così loro non lo vedano è un po bruttino questo adesso proviamo a ucciderli tutti così quello lì è passato in quello lì è passato molto tranquillamente ah cavolo non si arrende ora facciamo fuori questi ragni però se ne fate danni per starla l'ho potenziata molto eh anche loro fanno molti danni eh vediamo di raggiungere il boss questa volta per cavolo oh è andato benissimo eccolo qua questo tipo da qua c'era uno spirito oscuro ma non l'ho fatto ancora cosa starebbero minando questa è una cava di titanite non si fanno male non credo credo che stiano nei posti in mezzo alle punte ok arriviamo avanti sapete cosa faccio adesso qui è una volta di gol ha fatto la guata romano solo che noi sappiamo cosa ci aspetta o cavolo ancora è qualche lancio troppi decisamente troppi o mio dio un colpo un colpo solo ho giuntato benissimo spezza carrozze spezza grazie ah 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 corazzi no carrozze cos'è questo ah quella che spara dei fulvini molto utile vediamo un po cosa troppa per il boss eh credo che siamo quasi arrivati ok perché un ragno di troppo dei pantaloni questo qui è un è un uomo posseduto da un ragno ci assomiglia molto a questo senso assomiglia più a me o a te credo che assomigli di più a me si è vero è più genciotto infatti io sono più alto e fiero lo sei più basso è umile non sono per niente umile solo perché sono sempre in cosa oh però guarda il cielo cos'è questo posto tu vuoi andare su quella regnetta del senso funzionano come ponti non vedi ma ciò è inumato non possono essere così detestetti il senso con ragni così grandi cosa ti aspetti non sono più cose hai ragione è molto storia questo posto non credo perché un ragno mi ha droppato uno spadone forse l'hanno mangiato dall'ultimo capiciso è grande il doppio di loro come cavolo questo gioco non è sicuro avrà avuto un po di malipaccia ecco perché sono così grandi hanno mangiato robe più grandi di loro ah 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 ok c'è uno tardi molto altre volte se questo oggi io sto apprezzando molto le tue battute per niente e stupide invadenti molto bene ora c'è un trucchetto per tenerli lontani da torcia ah capisco mi sono fatto molto male però non tengo lontani i contadini perché ci sono dei contadini qui sotto e perché sono così resistenti e questo è il problema perché gli attacchi non si possono caricare non ho vita non ho vita cioè non ho energia ah ma se il geno fa un po d'anni perché osserva perché i contadini perché mi ha preso quel contadino perché sono così resistenti ho una katana affidatissima come vedi i ragni non si avvicinano a me non hai molta vita Sers già e qui c'è il boss credo di sì aggiudicata l'abietazione io direi che potrebbe essere un ragno gigante freia amata del duca amata dal duca come fa questa cosa come fa questa cosa ad essere amata da qualcuno questa cosa spara un raggio della E appunto oh mio dio Sers mi chiedo anch'io ma chi cavolo ha creato questo cosa perché spara una specie di ma i ragni sono infiniti? è moreno del duca no finiscono dopo un tot aspetta il ragno preferito è arrivato al duca ok abbiamo recuperato qualcosa i ragnetti ah ok viene questo mostro scappa sta attaccando lo attacchiamo dall'altra testa scappa le teste ok adesso ho capito già è il ragno più strano che abbia mai visto che MuffetGore? aspetta un secondo è una strana per te già MuffetGore non ha due testa mi sei stati così sono solo queste cose qua aspetta un secondo do fuoco alla mia spada occhio dietro di te già devi bere mmm bere Grigby sa queste cose però lo so meglio una bevanda che ti genera la vita sembra fantastico da due respi molto bene ora andiamo dall'altra testa ma se tu sei tu non colpisci la testa per forza perché la mia spada è già quasi rotta forse perché è invisibile e non resiste nessun problema l'ho cambiata ma se tu non attacchi la testa gli fai danni comunque no no sarebbe troppo facile ah allora staccagli la testa molto bene cambiamo testa guarda come colpisce i ragni questa qua fa anche veleno l'unico problema è che non si può avvelenare un ragno non ha senso questa cosa già abbiamo poche fiaschette o almeno credo che siano fiaschette oh cavolo come ti ho senso quanto hai rischiato già scappa c'è anche la possibilità che ti mangi sul serio già non è una bocca bastita grande ha cercato di mangiarmi poco fa perché devono essere così resistenti fatto ora danno non morire fassa stai sparando il raggio della morte hai ragione ho fatto bene a fidarmi devo assolutamente scappare se gli stai troppo vicino ti mangia o almeno cerca di mangiarti perché deve avere così tanto quanto resistete questo ragno è gigante apposta oh dai lo stai cavando sas giusto tampo si terrà ok sono tornato era un dine questo boss è parecchio difficile oh che cavolo domani a me se giorni e mezzo devo essere davvero per il mio allenamento speciale quanti ragni oh l'allenamento per la guardia reale si e mi segnerà anche a cucinare spaghetti e mi fiori ma per me io il grande papai ross so già tutto sui spaghetti non mi sembra non l'ho vista come un'ottima cuoca dai cucina proprio bene ho rischiato moltissimo per me i ragni sono infiniti Sers si sono infiniti devi solo evitarli ha troppa vita questo ragno Sers oppure fermati a ucciderli prima o poi ce la faremo prima o poi oh cavolo ci è mancato pochissimo davvero pochissimo ha saltato addirittura oh oh molto bene ragazzi ho finito le fiaschette siamo un po' messi male cazzo del fonico questa cosa è grave cazzo non puoi morire devo trovare un modo di contrastare tutti questi ragni si è spostato oh mio dio non mi è nera un po' leggero evitare i sers sono molto lente però funzionano si prepara per una carica molto più resistente di quanto mi ricordasse forse è più difficile siccome è già finito il gioco per ben due volte la bocca era a mezzo centimetro dalla mia testa ho visto Sers ho visto no Sers no il ragno era in mezzo alla via capa nessun problema i genitori la vita queste pietre Sers no Sers no Sers non ho più vita ormai spero solo che perché cos'è lei per la generazione della vita? dipende le fiaschette sono molto più veloci almeno di genere la bobbino mette di genere fino a un certo punto anche almeno si è più davanti i ragni sono infiniti da nozione non so come fare sto cercando un incantesimo ma bella che è questa del caos andrà bene che ho finite no un bel attacco d'aria ci vuole non ne ho ho una palla di fuoco appena è un problema Sers hai sentito no quanta vita che ne va a Sers davvero poco sono abituato all'ultimo dove stavo in un avvelenamento continuo se solo questi ragni si spostassero molto bene ora possiamo riprendere no non possiamo abbiamo ucciso i ragni per i otto Sers continuano a seguirmi non la smettono abbiamo recuperato molta vita questo ragno deve essere molto stupido non ti seguo neanche con il sguardo esatto ah tu lo sai dopo non so più a chi badare se i ragni vuoi quello grande deve tirarlo giù continuate a sguardo proverò questo non è successo nulla che peccato è ucciso qualcuno a Sers lo mio scudo mi ha salvato la vita quanto hai rischiato non so perché a volte è lento manca davvero poca vita per i boss manca due poca vita a Sers se ci fossimo solo io e il ragno grande non sarebbe poi tutto questo difficile è orribile guarda come si apre la schiena scappa ormai sono abituato manca davvero poco perché a volte rallenta qualche ragno è andato molto bene ma cavolo Sers scappa no sei sulla tua testa ora in sia a destra sia a sinistra non so cosa fare lo vero Sers scappa l'unico modo è allontanarsi attacca la tua testa ne ha due attacca il ragno manca davvero pochissimo un altro colpo e finirà tutto non hai cioè nel dato quel è andata bene ragazzo ce l'ha fatta e io sono aggressivi comunque questi qui sarebbe troppo facile se finisse tutto si cazzerà un sacco quella era mappi e ma ricorda piccola o perché ora sono circondato Sers se ti fai uccidere cos'è ti sbatto fuori di casa non me ne andrò mai dalla mia camera Sers beh direi che abbiamo fatto fin troppo per oggi no e questo cos'è animo speciale molto stavo per andare nel vuoto non è ancora finita no c'è qualcosa di qua qualcosa di speciale non era l'ultimo boss quello ah perché l'ho già aiutato maffetto e questo chi è è un nemico il lord è un nemico e se non attaccavi Sers se non attaccavo si girava e mi attaccava lui ah ha uno stocco a quanto vedo oh molto bene se non sbaglio oh un falò primordiale aspetta che lo c'è ma che cavolo cosa che cavolo hai fatto che cavolo è questo che cavolo è questo coso parla cosa è questa cosa non sto capendo credo che quello sia un aso è qualcosa ah ho capito ma che diavolo hai fatto è successo hai capito qualcosa no sei pure esperto in questo gioco non io ok tra le fa finiamo qualche play ok ciao a tutti i ragazzi ok ragazzi ci vediamo al prossimo sto cercando un'arma tanto taglio tranquillo ah ok quindi non serve neanche che parlo già quindi non serve neanche che mi rompa la gola ma l'edizione acqua è lì